Boris Johnson, personaggio di spicco della politica inglese, di recente avrebbe dato, avrebbe detto una frase che non sarebbe passata inosservata e sarebbe la seguente Basta lockdown anche a costo di avere cadaveri ammassati Una frase davvero scioccante quella che sarebbe stata attribuita proprio al primo ministro o meglio al premier inglese per eccellenza Ma lui stesso è andato a smentirla in maniera determinata facendo sapere che non ha pronunciato questa frase Quindi si è stato diciamo così uno sbaglio o meglio un errore Non ha mai pronunciato questa frase stando proprio alle parole che lui stesso avrebbe di recente formulato o meglio trasmesso Insomma per chi ci crede oppure no la frase in questione lui non l'avrebbe detta, non l'avrebbe pronunciata Crederci o non crederci questo è il problema Non vi ripeto se effettivamente parlando le sue parole sono state queste Però lui ripeto che informa tutti dicendo no io non ho mai detto una frase di questo tipo Non ho mai detto una frase del genere quindi chi sostiene che abbia pronunciato questa frase si sta letteralmente sbagliando Bene, ringrazio per l'ascolto, il video termina qua Iscrivetevi al canale mi raccomando, commentate Ciao a tutti dal narrato italiano